Gentili telespettatori, buona giornata. Durante la conferenza stampa di fine anno, la Meloni si è già tolta un peso, che è quello dei condoni, i volgari condoni che lei voleva realizzare per accontentare l'alleato irrequieto Salvini. Il patto era questo, io ti faccio realizzare un po' di bandierine ma tu staccati da Berlusconi. La coppia. Le bandierine salviniane dall'aumento del POS è stata cancellata alla fine della Meloni e si è tolta un peso, perché evidentemente favoriva comportamenti illeciti, evasione fiscale e quant'altro. E si è tolta sto peso. E poi il volgare condono. Cancelliamo tutte le cartelle esattoriali fino a mille euro. La Meloni ci stava proprio stretta con questa cosa, perché diceva, come giustifico? Allora aveva tirato fuori il fatto che tanto non sono esigibili, pertanto costa di più chiedere questi soldi che cancellarle. E poi comunque se voi siete ben informati sapete che le cartelle sono 1500-800 euro più le spese per il recupero crediti, quindi i costi per chiedervi questi soldi ve li fanno pagare, ve li mettono sulla cartella esattoriale. Ecco, naturalmente l'80-90% delle cartelle esattoriali sono fino a 1000 euro e sono tutte multe di solito, che i comuni hanno bisogno di quei soldi. Se voi ci cancellate tutte queste cartelle esattoriali noi non abbiamo più niente dove prendere i soldi, perché i comuni vivono con le cartelle esattoriali di quelli che non hanno pagato. C'è chi dice, vabbè, ma se uno non li può pagare non li paga, però la legge deve essere uguale per tutti. Non è che si può dire, ma secondo me tu hai difficoltà a non pagarla, tu hai una faccia di uno che ha i soldi e invece la paghi. La legge non può essere discrezionale, la legge è uguale per tutti. Non hai pagato una multa, che tu hai la Ferrari o la 500, la multa la devi pagare. Non si può dire, ah no, ma poverino, quello ha chiuso l'attività, allora non gliela faccio pagare. Ecco, la multa non può essere discrezionale, la legge deve essere uguale per tutti. Non si può dire tu sì, tu no, secondo se mi stai simpatico in questo momento o no. Ecco, pertanto tutti devono pagare. La Meloni si è tolta un bel peso. In conferenza stampa dice, non ci sono condoni, tutti pagheranno il dovuto. Si è tolto un altro gigantesco peso e una sciocca bandierina della lega. Perché bisogna condonare? Perché bisogna alzare il post? Perché bisogna alzare il contante? Beh, ho qualche sospetto sulla linea salviniana, alzare il contante, alzare il post? Diciamo che fa venire qualche dubbio una politica di questo tipo, qualche dubbio arriva. E poi sulla flat tax la Meloni dice, non penalizza i lavoratori dipendenti. Ecco, qui siamo a un'altra bandierina salviniana. La flat tax per gli autonomi e niente per i dipendenti. Quindi abbiamo visto che a parità di ingresso economico, entrata economica, 85 mila euro, l'autonomo e il dipendente hanno delle tassazioni differenti. L'autonomo può anche scaricare i costi. In maniera forfettaria scarica dei costi di gestione che il dipendente non scarica. Il dipendente non scarica nessun costo di gestione. Ma alla fine, facendo tutti i conti, questo scarica, quello non scarica, questo di qui, questo di là, eccetera, eccetera, alla fine il dipendente con 85 mila euro paga molte più tasse, moltissime più tasse, dell'autonomo che ne paga molte meno. Eh, ma quello c'è il rischio di impresa? Vabbè, cosa vuol dire? Le tasse non è che si pagano in base al rischio di impresa. Tu hai un'attività rischiosa, potresti chiudere, allora ti faccio pagare meno tasse? No, anche qui non ha senso. Non è che le tasse si pagano in base al rischio di chiusura. E io apro una pizzeria, c'è un rischio 0,9, se apri invece, non lo so, un negozio di scarpe, c'è un rischio meno basso, allora paghi più tasse. No, è una cretinata che ho sentito. Io ho il rischio di impresa, e quindi? Sono affari tuoi che hai il rischio di impresa, non è che perché se hai il rischio di impresa paghi meno tasse. Quindi, contando tutto, eh, contando tutto che togli una parte forfettaria di spese, poi da lì paghi le tasse, perché c'è qualcuno che si mette a fare tutti i calcoli, perché cerca di giustificare il fatto che l'autonomo è giusto che paghi meno tasse, però facendo i calcoli il dipendente ha la sicurezza, ma poi sicurezza è che io ho lavorato in imprese, aziende come dipendenti, e dove ho lavorato in una stava fallendo, e velocemente mi sono cercato un altro lavoro, e l'ho trovato per fortuna. Quindi non è che lavorare da dipendente ha il lavoro sicuro, non c'è proprio niente, anche le grosse aziende possono chiudere, pertanto quando la Meloni dice la flat tax non penalizza i lavoratori dipendenti, ha ragione, la flat tax non penalizza i lavoratori dipendenti, i lavoratori dipendenti però continuano a pagare più o meno le tasse di prima, e il lavoratore autonomo con la flat tax paga molte meno tasse a parità, due persone che guadagnano 85 mila euro, uno paga molte più tasse dell'altro, questa è la realtà. Il fatto è che la risposta della Meloni è corretta, la flat tax non penalizza i lavoratori dipendenti, ma il fatto è che il lavoratore dipendente viene discriminato rispetto al lavoratore autonomo, perché al lavoratore dipendente viene regalato qualche euro in più, il cuneo fiscale un punto in più perché Draghi aveva messo il 2%, la Meloni lo alza il 3%, sono circa 6 euro in più, 6 euro in più al mese, cioè il lavoratore dipendente paga 6 euro in meno al mese di tasse e ce li ritrova in più nello stipendio, quindi il lavoratore dipendente avrà 6 euro in più, il lavoratore autonomo avrà 6 mila euro in più. Abbiamo fatto qualche simulazione su un elettricista che lavora da dipendente e un elettricista che lavora in proprio, alla fine di tutto, facendo tutti i calcoli di quali imposto, facendo tutti i calcoli, l'elettricista dipendente paga 6 mila e 500 euro in più di tasse che l'elettricista autonomo, tenendo presente anche che l'elettricista dipendente non evade perché non può evadere, viene ritenuto alla fonte tutto, mentre l'elettricista autonomo potrebbe essere tentato qualche volta da non dichiarare qualcosina, potrebbe essere tentato, non fraintendetemi, diciamo che chi è autonomo ha la possibilità anche di fare il furbino mentre il dipendente non può neanche pensarci perché è impossibile. Bene, quindi la flat tax non penalizza i lavoratori dipendenti? No, però la flat tax discrimina tra lavoratori e quindi la risposta della Meloni è giusta, non penalizza i lavoratori dipendenti, il fatto è che i lavoratori dipendenti non hanno un vantaggio sulle tasse come oggi ce l'hanno quelli con la flat tax, quindi la Meloni ha dato la risposta giusta ma il problema invece c'è, è come se c'è. Grazie a tutti e arrivederci.